L'ospedale di Loreto diventa all'avanguardia con questo macchinario rispetto agli altri centri? Sicuramente sì, quantomeno, perché abbiamo una tecnologia che credo che pochi in Italia ci possano invidiare. Poi, noi ci mettiamo del nostro dal punto di vista umano e professionale, però sicuramente in questo momento noi possiamo offrire alla popolazione marchigiana una qualità di tecnologia che non è seconda a nessuno in Italia. Il centro unico regionale di diagnosi prenatale di secondo livello di Loreto ha presentato un nuovo ecografo all'avanguardia nell'ambito delle indagini ostetrico-ginecologiche che fornisce immagini di qualità eccezionale e maggiore capacità di penetrazione. Considerate che in questo centro vengono solo ed esclusivamente persone selezionate da un'attività precedente di screening, quindi a noi mandano dei dubbi da chiarire e noi abbiamo a mettere in campo tutte le possibilità che abbiamo. umane e tecnologiche. Un'altra cosa importante di questa macchina, che non ha le altre macchine, è che riesce ad avere una maggiore precisione di immagine in soggetti in sovrappeso. L'importanza di questa giornata non è tanto l'utilizzo di questo ecografo, ma il fatto poi di tutta l'attività che viene fatta di screening su tutto il territorio. Prevenzione e screening lea livelli essenziali di assistenza. Sono gli obiettivi utili per fornire opportunità di cura adeguate a tutti i cittadini. È un segnale importante, ma soprattutto il riconoscimento di un'eccellenza che attrae pazienti da fuori regione, oltre che dalla nostra regione, ma soprattutto è il segno di una professionalità riconosciuta per la capacità appunto di erogare servizi importanti nel segno dei lea, nel segno della prevenzione, nel segno dello screening, che è sicuramente la sanità che vogliamo. Quella di Loreto è la prima struttura pubblica in Italia ad essersi dotata di questa attrezzatura. È un riconoscimento all'altissima professionalità di Loreto. Accanto a me c'è una delle dottoresse che operano qui a Loreto, a cui va il ringraziamento e il merito per aver organizzato un centro di questa caratura. Questa tecnologia è la prima assegnata in Italia, assegnata, poi la stanno acquistando anche altre aziende e questa è una manifestazione della loro sensibilità, perché hanno sollecitato l'azienda e la regione ad acquistare questa tecnologia. Faccio vedere una cosa particolare, il nostro direttore ci ha regalato a tutte noi il logo del nostro centro, questa è una madonnina che potete trovare nell'ambito del reparto, ma perché appunto questo lavoro fa parte di noi, è veramente una missione. Lavoro con il dottor Cecchi da 15 anni e devo dire che ogni giorno è una soddisfazione. Se in questi sette anni di apertura di questo reparto abbiamo avuto quasi 60.000 prestazioni, sono la dimostrazione che è un centro attivo e il grazie forte va naturalmente anche a tutto il personale, a partire dal dottor Cecchi, a tutti i suoi collaboratori che comunque alla professionalità legano anche il discorso umano.